La strada come ambiente di lavoro, rischi e pericoli. Questo è il titolo dell'incontro che l'Automobile Club Salerno ha tenuto ieri pomeriggio a San Valentino Torio, nella sala teatro della parrocchia Santa Maria delle Grazie, un incontro inserito nell'ambito degli appuntamenti dell'infiorata di Casatori. La collaborazione istituzionale a livello locale è stata concretizzata con l'intervento dei rappresentanti dell'INAIL, dell'ASL, della Polstrada, della Capitaneria di Porto e dell'autorità portuale di Salerno. In particolare si è affrontato l'argomento dell'incidentalità stradale relativa ai veicoli commerciali e alle problematiche ad essi legate. L'Automobile Club si muove a 360 gradi per quella che è l'argomento della sicurezza stradale e quindi abbiamo inteso rivolgerci oggi alla categoria degli autotrasportatori, intendendo appunto la strada come luogo di lavoro. Di qui le collaborazioni istituzionali, tenendo presente anche quello che è il problema dell'ambiente e soprattutto che ci troviamo a Salerno dove la realtà portuale è molto grande e soprattutto importante e deve essere presa in considerazione per un discorso di intermodalità dei mezzi di trasporto, proprio seguendo quelle che sono le indicazioni della Commissione europea per la diminuzione proprio degli automezzi pesanti sulle strade entro il 2030. Ognuno deve fare la sua parte, tutte le istituzioni, i comuni, le province, le regioni, lo Stato, perché è importantissimo avere prima di tutto una strada sicura, senza buche, con protezioni adeguate. Vedi l'incidente del pullman lì vicino ad Avellino, purtroppo con tutti quei morti, per mancanza di protezione adeguata. Quindi prima di tutto infrastruttura giusta, adeguata e poi il comportamento del conducente. Metà dei morti sul lavoro sono dovuti agli incidenti stradali. È un discorso estremamente positivo, però come Presidente devo rettificare questo. Il mio dovere farlo è di dire la sicurezza benissimo, è giusto che ci sia. Io credo che le nostre aziende di autotrasporto, tutte dovrebbero comunque attenersi a quelle che sono le regole, in gran parte lo fanno, però è difficile attenersi alle regole quando purtroppo i pagamenti che vengono fatti a queste aziende sono sempre sottopagati.